Ragazzi, vola la prima, vola la prima, siamo riusciti, sì possiamo dire siamo riusciti a rientrare nell'ora, dobbiamo fare questo prologo molto veloce, tecnico, il finale molto molto cattivo, nell'arco di un'ora ci siamo riusciti, stranamente avevo la gamba buona, dico stranamente perché la velocità non è per me, io sono qui sul lembra, sempre lui, oggi è la pre, corta e cattiva. Oggi Alessandro ha fatto il ritmo sempre lui, per la verità le mie gambe oggi erano dure e ci sono sbloccato un po' verso la fine, però ci siamo divertiti perché abbiamo fatto quello che ci eravamo messi in testa, quindi di stare dentro l'ora, abbiamo concluso in un'ora e un minuto, 21 chilometri, circa 600 metri di livello, diciamo dai, tutto a posto e domani partiremo con la prima lunga tappa. Grazie boys! Ciao!